Team Music è live a casa tua. Un evento eccezionale, un regalo di Natale per tutti i suoi fan, in esclusiva su Italia 1. Ciao, sono Mika, come voi sapete io sono andato in questi ultimi giorni a casa di uno di voi. Venite a scoprire dove, il 23 dicembre su Italia 1, Team Music live a casa tua con io, Mika. Live a casa tua, speciale Mika, mercoledì 23 dicembre alle 23.20.